Credo che dopo anni di tagli, dopo anni anche di un governo approssimativo della sanità, bisogna reinvestire in sanità e continuare a pensare che lo Stato sociale non è un costo, ma può essere un investimento di salute, un investimento di lavoro, di benessere, di prosperità. Bisogna cambiare la prospettiva. Io sono ancora convinto che la sanità deve essere pubblica per tutti, universalistica e basata sulla fiscalità generale. Non mi convincono le mutue integrative, non mi convincono quando non si fanno piani, come ad esempio per l'epatite C, per eradicare davvero nei tempi più brevi possibili la malattia dal Paese. Non mi convince la libera professione quando pone al cittadino il ricatto che a pagamento si fa prima, altrimenti bisogna aspettare. Quindi ci sono grandi questioni da affrontare. Tra queste, ad esempio, anche la non autosufficienza. Quando in una famiglia una persona diventa non autosufficiente, addirittura c'è il rischio povertà. Non ci sono diritti precisi a questo riguardo e bisogna fare di più. In Italia c'è tanta evasione, sono 140 miliardi all'anno di evasione fiscale, si colpisca lì e si trovino le risorse per rilanciare lo Stato. Lei ha detto che saprebbe anche dove trovarli? Sì, insomma, come tutti i cittadini sanno dove si evade. E lì bisogna indagare, colpire e trovare le risorse per rispondere ai bisogni fondamentali dei larghi sceti popolari, dei giovani e degli anziani.